Ci sono nel mondo uno che di mestiere trova le parole giuste, che le sa mettere in un modo che quando gli batte il cuore a lui gli fa battere il cuore anche a quell'altro. Non leggiamo e scriviamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri di una razza umana e la razza umana è piena di passione. Saluti in poesia di Agnese Monaco. Eccomi qui, ciao a tutti, un'altra settimana in vostra compagnia qui nel Rock Night Show del Dorano, vi ringrazio, sono Dario No, a conclusione il mio saluti in poesia. Io sono Agnese Monaco e la sigla mi piace tantissimo e vi rendo questa volta come l'arcobaleno. Come l'arcobaleno rischiare ogni tempesta, mentre un brimino allatta il seme, scoppia il pensiero nei tre brilli di riverbi rispucati, tali da entusiasmare fiati, come flick per tanto un premio, confinando che quel sorriso sia mio. Come le dita, stracci le mie paure, mentre recito Requiem, pronunciato un lago, assente da troppi secondi. Sei tutto nell'istante e di niente per ogni lamento. Morfeo combatte col tuo pensiero, fisso nella testa tra coccole perdute e foto strappate, dove il mio volto ormai è in quello di altre. Grazie a tutti. Volevo ricordarvi che questa poesia è contenuta nel mio nuovo libro intitolato La Sintesi di me stessa. Questo libro si può trovare sia nelle linee fisiche, ma anche quelle online, oppure potete scrivere al email mondialepoesiachiocciolagmail.com per richiedervi una copia autografata o una speciale. Parte dei proventi di questo libro andranno alla Smile House Fondazione, che si occupa di numerare bambini nati con malformazioni al volto. I miei social media sono, come sempre, la pagina su la pagina Agnese Monaco Official, su Instagram Monaco Agnese, su YouTube Oli Agnese e su TikTok Agnese Monaco 1. Ascriviti al nostro canale. Ciao!